Oggi sono qui a parlare, e mi rivolgo anche a lei Ministro, da Pugliese. Parliamo di una tragedia che è accaduta nei confronti di pendolari. C'era anche un funzionario dello Stato, c'erano dei cittadini, degli studenti. Quella è una ferrovia che viene giustamente utilizzata all'interno di quell'area per spostamenti che sono tipicamente fatti da pendolari e da lavoratori. Allora io quando ascolto le sue parole nei confronti di quelli che sono stati gli investimenti in questi due anni nei confronti delle ferrovie regionali, io dico ma lei ha mai preso un treno regionale? Ma l'ha mai preso? Perché io l'ho preso. L'ho preso da studente universitario, l'ho preso da lavoratore e sono stato quasi felice che questa tragedia sia accaduta oggi e non in inverno, altrimenti sarebbe stata una strage ulteriore. Perché in quei treni ci vanno in piedi, ci vanno senza aria condizionata, ci vanno senza alcun criterio di sicurezza. Da anni. Ma voglio andare proprio su di lei, Ministro, perché in qualche modo nel suo discorso, Ministro, lei ha detto che non sta scaricando le responsabilità. No, Ministro, lei è il primo responsabile politicamente di questa tragedia. Sa perché? Le dico una data. State in silenzio per cortesia. Come vi abbiamo ascoltati noi, ci non ti ascoltate. No, no, no. Allora, scusate colleghi, siamo al tema. Presidente, Ministro, 12 giugno 2013 viene depositata un'interrogazione parlamentare in cui si parla proprio di quel tratto di ferrovia, a mia prima firma. Lei ha avuto tre anni per rispondere, non ho mai ricevuto risposta. È vero che prima c'era Lupi, ma lei non ha mai risposto a quell'interrogazione. Il silenzio vero è stato su quello nel quale gli si chiedeva qui ci si sta renando, qui i lavori non partono. È una progettualità presentata nel 2007, che è stata finanziata nel 2012, che doveva partire il primo gennaio del 2013. Invece ci troviamo oggi ad aver traslato, come lei ha detto, in realtà sono persi quei soldi spostati su un'altra tranche di finanziamenti europei e ci troviamo di fronte alla tragedia. E quando c'è la tragedia, come al solito avviene in Italia, adesso partiranno i lavori, adesso accelereremo, adesso creeremo una commissione. Il sottoscritto ha chiesto nel 2015 alla Regione Puglia un documento nel quale chiedeva lo stato di avanzamento dei lavori. E la Regione Puglia, a me parlamentare, figuriamoci al Ministro, diceva, guardi che io ho dato tutti via libera, non so perché le amministrazioni locali sono completamente bloccate e non vanno avanti nella canterizzazione dei lavori. Io mi chiedo, così come ho fatto nell'interrogazione, perché lei adesso è a fianco e non lo era prima a fianco agli enti locali? Sa perché? Perché voi siete a fianco agli enti locali, ai politici, a Emiliano, a chiunque sia, ma non siete a fianco ai cittadini. Non siete a fianco ai cittadini. Prendetelo una volta quel treno. Capite qual è la vita all'interno dei treni pendolari. Ma non solo in Puglia, perché potremmo fare uno scenario devastante della Puglia, ma di tante altre regioni italiane.